Sono almeno due le strade che attraversano l'Alto Chiascio che in base all'accordo Stato-Regione passeranno di competenza dagli enti locali all'ANAS. La prima è la statale Contessa, 9 chilometri e mezzo di carreggiata dall'innesto con la statale 219 Piandassino fino al confine con la regione Marche. La seconda è la statale Flaminia, dallo svincolo della Perugiancona all'altezza di Colbassano fino al confine con la regione Marche. Si tratta di un passaggio atteso da tempo e già programmato che ora diventa realtà e che riguarda anche altre dieci direttrici Umbre per un totale di 246,8 chilometri divenuti di pertinenza statale. Secondo il già sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, Rocco Girlanda, oggi dirigente ANAS, si tratta di una buona notizia considerando che l'ente nazionale delle strade riuscirà a garantire una manutenzione più incisiva facendo leva su una cassa più sostanziosa rispetto alle magre risorse locali. Una buona notizia intanto per la Flaminia pedemontana che rappresenta una fondamentale arteria per i piccoli comuni dell'Alto Chiascio. Una buona notizia però anche per la Contessa il cui trasferimento di competenze era atteso da tempo dal gruppo di sostenitori guidati dal partito socialista Eugubino che richiedono un ammodernamento della stessa. Giace da anni in un cassetto infatti privo di finanziamenti per la sua realizzazione un progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia che ridisegna la Contessa in un altro sito a valle di quello attuale senza viadotti eliminando il fattore del saliscendi e le curve proponendo un'arteria che resterebbe a due corsie ma sarebbe direttissima e piana. L'arrivo di Anas riaccende le speranze anche se è il Ministero in accordo con Regione Cipe che dovrebbe ammetterlo a finanziamento argomento sul quale lo stesso Girlanda confessa la sua perplessità. Io credo che la Contessa perderà un pochino di attrazione nel momento in cui ci sarà il completamento della Giancona perché molto del traffico che dall'Adriatico viene all'interno della regione della nostra regione probabilmente vedrà un fuso in quella infrastruttura non più nella Contessa. Il percorso per ammodernare e trasformare la Contessa devo essere sincero per fortuna oggi non me ne occupo ma è molto complesso e molto lungo.